76 migranti sono stati intercettati a bordo di una barca a vela nel canale d'Otranto dalla guardia costiera che in collaborazione con la guardia di finanza li ha soccorsi e tratti in salvo. Si tratta di 76 uomini e tutti in buone condizioni di salute. Sono stati condotti in pullman a d'Otranto nel centro di prima accoglienza ed identificazione Don Tonino Bello. La barca è stata intercettata anche grazie all'ausilio di un elicottero dopo una segnalazione inviata da qualcuno a bordo della barca a vela al numero di emergenza 1530 ed a Roma la chiamata è stata subito rimbalzata nel Salento dove si è intervenuto. A poche ore dai soccorsi le indagini hanno portato all'arresto del presunto scafista. Si tratta di un cittadino di nazionalità ucraina. L'uomo ha tentato di fuggire a bordo di un gommone all'arrivo delle motovedette ma è stato bloccato.